Salve a tutti ragazzi, benvenuti su Robocraft, oggi sono qui per, prima di tutto, avvertirvi che su Humble Bundle, nell'Humble Weekly in special modo, quello settimanale, c'è la possibilità con 6 dollari minimo, oltre che portarvi tutti i giochini dell'Humble Bundle, di potervi portare anche l'Humble Bundle di Robocraft, che vi aggiunge dei robot che possono essere presi esclusivamente in quella modalità, e vi dà anche 2 mesi di premium insieme a tutto. Quindi potete correre a prendere questa opportunità con 6 dollari circa, prendete l'Humble Bundle completo di 6 dollari, quindi saranno 5-6 giochi sicuramente, più questo pack per Robocraft. Allora ragazzi, vado a farmi la modalità nuova con il satellite, leggermente modificato con gli sparettini, perché non ho avuto tempo di creare un robot nuovo, come mi avete detto, perché ho giocato abbastanza poco, non ho avuto molto tempo. Va bene ragazzi, dai andiamo a vedere come se l'accava. Ok ragazzi, siamo partiti, vai 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 vai, scusate se sentirete i rumori di Robocraft molto bassi, ma ho dovuto abbassarli per colpa di questa voce qui. Ecco, proprio questa acqua che adesso ha parlato, non so come la sentirete, però effettivamente è molto fastidiosa e io non la supporto. Allora, andiamo immediatamente a cercare di catturare qualcosa qui. Ok, 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 rompiamo, rompiamo, rompiamo. Ok, l'abbiamo presa. Allora, io vedo un nemico lì, che è stato preso male, poverino. Oh, mi hanno preso le mira, mi hanno preso le mira, gori, gori, fuga, fuga, fuga. Anfatti io ho paura di farmi colpì così, invece posso rinascere tanto. Sono troppo veloce, è divertente fare così, molto divertente effettivamente. È più divertente che si spara i pini. E io queste le attacco. Perché hai rotto le scatole. Ok, perfetto. E io continuo a spararla. Riuscirò a buttarlo giù una botta alla volta, che dite? Mi dovrei suicidare. No, no, mi hanno colpito. Chi è che mi colpisce? Dai, uccidimi, su. Sì, ma non mi dà una possibilità di suicidarmi, ok. Mi ha ucciso, mi ha ucciso. Qua non sono importanti le kill. Respawn. Dai, 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 dai. Rientra. Perfetto. Dobbiamo andare a catturare qualcosa. Dai, 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 dai. Io provo ad attaccargli loro. No, no, mi hanno preso di mira. Bastardone. No, mi ha distrutto tutto. Vai, uccidimi. E uccidimi, sbrigati, uccidermi, su. E dieci anni per uccidermi, dai. Perfetto. Hanno puntato me e non ancora. A posto. Così va benissimo. No, 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 hanno puntato me adesso, però. Cerchiamo di colpire quelli amati. Ok, girati. Dai. Dobbiamo riconquistarlo. Più che spara a te non posso fare niente. Mi sa che era meglio che plasma, raga. Vorrei dire, anche per buttar giù. Sembrava tanto più comodo, invece... Guardalo, 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 è maledetto quello. Piato, 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 piato. Come ci sei entrato tu lì? Non puoi entrarci. Cioè, dovresti morire male. Non riesco a piarlo, però. Preso. Preso. No, preso. No, dai, l'ho mirato bene. Era per forza preso quello. Pialo, pialo, pialo. Ok. L'hanno ucciso, dai. Mio Dio, quanti siete. Te piglio da qua giù. Ancora non hai capito che te piglio. No, 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 mi sono andato a sbattare il muro. Girati, 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 girati. Guardalo, guardalo, è maledetto. Ah! Mi stanno a pia, mi stanno a pia, mi stanno a pia là, mi stanno a pia là. Mi hanno piallato. Sembra una partita molto equilibrata. Penso si tirerà molto per le lunghe, ragazzi. Tanto quello adesso muore. Dai. Com'è, ti senti molto fiacco, vero? No, sto a morire io. No, non è possibile. No, no. Morto. Andiamo in base. Ecco lì, ecco lì. Entrati, guardali. Cattivi, cattivi. Che ci provano. Dai, dai. Io ammazzo il curatore. Me frega a me. Dai, io scendo e me giuro pure. Dai, che muore. Yeah, ho difeso la base, no. Provo per niente. Tanto mi autocuro o niente, eh. Non capiscono che io sto dentro al cerchio protettivo e loro no. No, mi ha ammazzato lo stesso. Non ci credo, no. Non ci credo. Ok, questo lo sto colpendo da cattiveria. Boom, l'ho ucciso io, però ora muoio pure io. Ecco che muoio. Ecco che muoio. Dai, pigliami, pigliami. Morto. Ok, questo verrà più al lato pesantemente. Io vorrei cercare di andare lì e dargli una mano in base, più che altro. Anche se non so se posso attaccarlo dal qui. Mi sembra di sì, gliela faccio da qua giù. Ok, ok, è fattibile, è fattibile da qua giù attaccarlo. E sto buttando giù il ponte centrale. Dai, vai, 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 vai. Dobbiamo pensare a quello. Non ci deve interessare le nostre morti. Se muoio non fa niente. Dai. Dai, dai, dai. Di cattiveria. Dobbiamo buttaglielo giù. Dai. Lo prenderò. Continuerò a sparare. Non ce la farete a fermarmi? No, ma hanno fermato. Mi hanno fermato. Mi hanno rallentato, maledetti. Ah. Vedo uno dei nemici. Che mi sta appiallando male. No, mi ha già ucciso. Ok, facciamo il giro. Yeah, abbiamo distrutto il Protonium Crystal. Vai, diamogli una mano. Diamogli una mano che abbiamo vinto. Dai, 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 dai. Kill la, kill la, kill la, kill la, kill la. Distruggi. Boom. Vittoria portata a casa, ragazzi. Vinta. Si è levato lo stallo. Abbiamo vinto. Vittoria. Così. Ragazzi. Partitozza vinta. Siamo morti diverse volte. Ma abbiamo fatto anche un paio di kill, effettivamente. E con gli sparettini è stato molto più comodo distruggere le basi loro. Vi ricordo comunque l'Humble Bundle. Vi metterò il link in descrizione dell'Humble Bundle Wiki. Eh, Wiki, scusate. E niente, ragazzi. Spero vi sia piaciuta la partita. Com'è, da lasciare un bel mi piace. E niente, ragazzi. E dopo questo fosse lì soltanto. Ci vediamo alla prossima puntata di Robocraft. Buongiornoique. Ciao.